Sergio Mattarella è stato eletto nuovo Presidente della Repubblica. Sì, ma io veramente lo ignoravo completamente chi era questo Presidente. È stato sempre nell'ombra per conto mio, poi per gli altri non lo so. Adesso bisogna vedere se questo Presidente è sfletta il suo loere sopra le parti e controlla generalmente quelli che sbagliano. Però una cosa dovrebbe essere chiara per tutti quanti, quelli che sbagliano e dovrebbe venire per il cravattino e buttarli fuori. Che cosa deve fare oggi il Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica deve tutelare la Costituzione. Deve essere come il Presidente Bertini che mi ricordo io, che è stato un grande Presidente per noi. Lei lo conosceva intanto per cominciare? No, io non lo conoscevo. No, non lo conoscevo nemmeno io. Che idea vi siete fatti voi? Come vi sembra? Dire la verità, non lo conosco bene come Presidente. Speriamo che vada bene, che faccia le cose fatte bene. È difficile oggi essere Presidente della Repubblica, di una Repubblica come l'Italia? Difficile, molto difficile, perché l'Italia mai ha perso il buon senso e l'equilibrio, i valori ha perso. Io lo conosco perché ho fatto politica e allora sono stata della sua corrente, del suo partito, per cui sono molto felice che soprattutto abbiano recuperato anche i valori della democrazia cristiana.